In viale della pineta di Ostia, circa due settimane fa, sono iniziate gli interventi di potatura delle alberature. Un lavoro molto atteso da residenti del territorio, che da tempo chiedevano la messa in sicurezza della strada e dei marciapiedi. L'entusiasmo però è durato poco, in molti oggi parlano di capituzzatura degli arbusti. Sotto al video postato sulla pagina Facebook dell'assessore all'ambiente del decimo municipio, Alessandro Ieva, sono comparsi moltissimi messaggi dove gli utenti parlano di lavori male eseguiti. C'è chi attacca l'assessore parlando di soldi spesi male, chi definisce gli alberi attaccapanni in riferimento alle capitozzature, chi sottolinea come si tratti di un intervento che ha danneggiato gli arbusti. Ieva dal canto suo ha assicurato che verranno immediatamente effettuate delle verifiche per capire la natura degli interventi e se in qualche modo si sia messa in pericolo la vita degli alberi. Ma c'è anche un altro problema, le potature sono state lasciate a terra e almeno per il momento invadono oltre 20 posti a auto solamente nel tratto che confina con il parco 25 novembre. Bisognerebbe toglierli al più presto possibile, non dovrebbe essere così, bisognerebbe fare una cosa programmata in modo da non vedere questo lavoro. Il lavoro andrebbe terminato, non si può lasciare questa situazione qui, ma questo credo sia un esempio perché il problema è un po' diffuso in tutta Ostia. Se guardiamo il lungomare, tutti quei lavori iniziati, ancora abbandonati così, Ostia Ponente, vediamo la rotonda e via dicendo. Un lavoro va iniziato a portare a termine gli interessi dei cittadini, degli abitanti della zona, non si possono lasciare tutte queste opere incompiute. La cosa positiva poi diventa negativa, perché appunto non viene impedito il parcheggio e via dicendo, poi questa situazione si trascinerà per giorni e giorni e giorni. È la routine, purtroppo è così. La sera, la mattina qua i parcheggi già scarseggiano, adesso che hanno occupato gran parte con i rami? Chi ha la sfortuna di arrivare poco dopo le 8 è finita, comincia un'oretta di giro. Anche in questo caso l'assessore Ieva, da non interpellato, ha garantito che a breve le ramaglie verranno rimosse. Sabato prossimo, 2 marzo, la sfilata di carnevale inizierà proprio dal parco 25 novembre e in queste condizioni le viabilità rischierebbe di andare completamente nel caos.